i venticinque franchi della madre superiora comico lo era non c'è che dire il vecchio pavì con quel corpiciatolo le gambe di ragno le braccia chilometriche e la zucca a punta dove sventolava lassù in cima come una fiamma il ciuffo di capelli rossi un allegrone di natura un pagliaccio campagnolo senza ombra di artificio nato per combinare ogni sorta di buffoneria e scatenare l'ilarità in tutte le parti che improvvisava irresistibili eppure fatte di nulla come era da aspettarsi da un contadino il creatore l'aveva messo al mondo per questo e sarebbe detto per divertire il prossimo i poveri diavoli come lui che non hanno per distrarsi né teatri né feste compito che il vecchio pavì adempiva con vera coscienziosità al caffè pur di non lasciarlo andar via gli pagavano consumazioni su consumazioni e lui beveva come un lavandino tra razzi e sberleffi canzonando tutti senza offendere nessuno in mezzo a un pubblico che si sbellicava era così comico che le ragazze non gli resistevano a lungo era brutto come lui solo il vecchio pavì ma sapeva farle ridere a un modo scherzandola e canzonandola finiva per tirare la prescelta dove lui voleva in una stalla dietro un muretto in un fossato alla peggio lì le si stringeva addosso le faceva il solletico le faceva delle proposte così comiche che pur resistendogli dal ridere lei si sentiva le gambe di censo respinto spiccava sgambetti faceva l'atto di arrampicarsi su un albero e quando dal gran ridere la vedeva con le lacrime agli occhi sapeva cogliere così bene il momento per ribaltarla che finiva per far la conoscenza di tutte anche di quelle che avevano cominciato per scherzo sfidandolo ad ottenere qualche cosa ora verso la fine di giugno il pavì entrò per la mia titura al servizio di mastro le arrivò dalle parti di rouville tre settimane di fila il tempo cioè che vi restò fu per tutti uomini e donne un teatro gratuito che non finiva col giorno al giorno lo si vedeva tra i mannelli di spiga il ciuffo di pelo rosso nascosto da un capellaccio di paglia raccogliere grano con quelle sue interminabili braccia e farne covoni non lo perdevano d'occhio i compagni aspettando senza mai restare delusi con la bocca già aperta al riso il gesto di marionetta la buffa mossa con la quale il buffone segnava le pause della sua fatica la notte si insinuava come uno scoiattolo nella paglia sulla quale dormivano le donne le mani in avant scoperta provocando strilli suscitando un pandemonio cacciato a colpi di zoccolo scappava a quattro gambe simile a un grottesco scimpanse mentre esplodeva per tutto il solaio un fuoco d'artificio di risate il suo trionfo avrebbe dovuto essere l'ultimo giorno il giorno in cui si festeggiava la fine della metitura però sulla via maestra bianca di polvere condotto da un garzone in blusa col berretto incoccardato avanzava quel giorno al lento passo di sei cavalli pomellati il carro infestonato dei metitori e in cima a quel carro chi c'era che ballava al suono di una cornamusa un balletto da satiro ubriaco tra donne che si contorcevano manco a dirlo pavì che lasciava bocca aperta sulla scarpata delle fattorie che via via si incontravano i ragazzini e i contadini sbalorditi dalla sua inverosimile struttura se non che giunto il carro alla fattoria di mastro le arrivò pavì spicca un salto a braccia alzate ricadendo urta sulla spalletta del carro e si ribalta sopra cade sulla ruota e stramazza a terra si precipitarono in suo aiuto il mattacchione non si muoveva più stava con un occhio chiuso l'altro sbarrato verde in volto di paura lungo disteso nella polvere lo rialzarono e lui si mise a gridare dal dolore e messo in piedi non visciresse si è rotto una gamba sentenziò qualcuno era vero la destra mastro le arrivò lo fece stendere su una tavola e uno corse a cavallo a rouville in cerca del medico che arrivò un'ora dopo il fattore generosamente si assunse di pagare lui le cure e l'adegenza all'ospedale il medico prese con sé in carrozza l'azzoppato e lo portò all'ospedale dove in una corsia bianca di calce la gamba gli fu rimessa a posto e ingessata quando il contadino capì che di quel male non sarebbe morto che verrebbe anzi curato guarito coccolato nutrito a ufo tra belle coperte al caldo e non avrebbe avuto da far altro che restarsene colicato tutto il santo giorno sul dorso si sentì traboccare di gioia aprì la bocca ad un ridere silenzioso che ne metteva in mostra i denti guasti appena una sora s'accostava al suo letto il degente manifestava smorfi e la sua gioia le strizzava l'occhio ed imenava il naso che aveva lungo e mobile come una proboscide nella corsia gli ammalati nonostante il loro male non si potevano tenere la superiore non sdegnava di venire abbastanza spesso a trovarlo per concedersi un quarto d'ora di spasso per la visitatrice di riguardo pavì aveva delle trovate più buffe del solito snocciolava delle barzellette inedite attore nato simulava sentimenti di devozione e venendogli di pronunziare il santo nome di dio assumeva un'aria seria l'aria dell'uomo che sa quando è lecito lo scherzo e quando no un giorno gli venne l'estro di dare alla madre superiore qualche saggio di canto la superiore restò entusiasta delle doti di ugola che il ricoverato rivelava e raddoppiò le sue visite e siccome un capitale come quello non doveva restare infruttuoso gli portò un libro di canti sacri si fide allora pavì seduto sul letto cominciava a muoversi intonare con voce in falsetto le lodi dell'altissimo di maria e dello spirito santo mentre per dargli l'intonazione giusta l'imponente madre ai piedi del letto con un dito batteva il tempo appena poi pavì cominciò a camminare lei gli offrì di tenerlo in ospedale qualche tempo ancora perché cantasse nella cappella servisse messa facesse un po da sagrestano all'uomo non parve vero e per un mese lo si vide zoppicare in cotta bianca intonare il responsorio e i salmi atteggiando il capo in così buffa dignità che il numero dei fedeli si accrebbe persino c'era chi disertava la parrocchia per assistere nell'ospedale al canto dei vespri ma questo mondo tutto finisce una volta che lo straordinario degente risultò guarito del tutto furono obbligati a dimetterlo riconoscente la superiore gli fece dono di 25 franchi per ricompensarlo dell'opera prestata non era ancora in strada con tutto quel denaro in tasca che pavì si chiedeva come spenderlo sì certo andrebbe al villaggio ma non prima di aver assaggiato un bicchiere era tanto che non si bagnava la gola ed entrò in un caffè così di rado gli capitava di venire in città e di quelle gite di una specialmente era rimasto un ricordo così inebriante ordinò dunque un bicchierino d'arsente questo avrebbe fatto la strada agli altri e lo trangugiò ad un fiato ora per sentirne il sapore ce ne voleva un secondo il pizziccolino sul palato e sulla lingua di quel liquido forte risvegliò in lui dopo un lungo periodo di forzata astinenza più vivo che mai il grato ricordo dell'alcol chiaccarezza e punge riempie d'aroma la bocca e la fa ardere capì che non si sarebbe fermato prima di averne scolato una bottiglia e domandò cosa costava una bottiglia a bicchiere l'avrebbe pagata di più tre franchi gli dissero gli sborsò e si ritirò a bersela a suo agio ma non buttava giù ora centellinava voleva mantenersi abbastanza lucido per riservarsi ad altri piaceri quando cominciò a vedere i camini fargli la liberenza dice il tappo alla bottiglia e messala sotto il braccio uscì non senza qualche precauzione nel passo in cerca di una casa in particolare non fu impresa da poco scovarla dovette per questo informarsi prima da un carrettiere che non fu in grado di dargli indicazioni poi da un fattore che lo mandò a bussare a un'altra porta per un terzo da un fornaio e si diede a gridare per chi mi prendete e lo trattò da vecchio porco e finalmente da un soldato che non solo lo accompagnò a destinazione ma spinse la sua cortesia sino a consigliargli la dama con cui accoppiarsi sebbene l'ora non fosse propizia era appena suonato il mezzogiorno pavì varcò la soglia di quel paradiso in terra ma la donna alla porta non voleva farlo passare se la conquistò tuttavia con una smorfia che la mosse a riso e facendo ballare nel palmo i tre franchi di tariffa al che quella lo scortò per una scala semibuia lungo la quale il cliente ricevette dal muro più di un urtone introdotto in una stanza da letto reclamò la venuta di regine si fidava del soldato e nell'attesa dette un lungo bacio alla bottiglia un bacio a garganella apertosi l'uscio s'affacciò una ragazzona accesa in faccia che copriva tutto il vano d'un'occhiata un'occhiata esperta costai squadrò l'ubriaco crollato su una sedia e con la bocca a culo di gallina non ti vergogni fece a quest'ora vergognarmi di che principessa tartagliò lui di farmi alzare da tavola i bravi non hanno ora vuole dire lui neanche per le sbronze hai ora vedo sei una fogna pavì non se la lasciò dire non sono una fogna prima di tutto e neanche sbronzo sono ah non lo sei prova a tenerti in piedi e lo guardava col risentimento della donna che pensa alle sue compagne che stanno mangiando punto nel vivo lui si tirò su io io ballerei una polca e per provarle se in piedi ci stava o no salì sulla sedia e con una piruetta saltò sul letto dove ecco apparire bene in vista le fangose impronte delle scarpe a sforcaccione si infuriò la ragazza proteggendosi lui tentò di vibrarle un pugno ma quel tentativo gli fece perdere l'equilibrio vacillò e cadde giù dal letto e fatta una capriola completa andò a finire sul comò tirandosi dietro la brocca dell'acqua per crollare infine urlando sul pavimento in fracasso le grida furono tali che tutta la casa si trovò radunata nella stanza madama e consorte serva e pensionati il tenutario cercò di tirar su il cliente ma appena avrebbe rimesso ritto il contadino traballò e si rovesciò da capo per terra gridando come lo scuoiassero che sarà rotta la gamba l'altra gamba la buona era più che vero si corse in cerca di un medico e caso volle riapparisse quello della prima volta come sei tu ancora come vedete che ti è successo mi hanno fatto rompere anche l'altra come la prima sordottore e chi te l'ha fatta rompere una una mala femmina tutti stavano a sentire la ragazza in vestaglia con la bocca ancora unta dal pasto interrotto madama furibonda e consorte piuttosto inquieto non finirà qui disse il medico in comune vi vedono già di cattivo occhio sarebbe meglio mettere la cosa a tacere e in che modo chiese il tenutario ma il meglio sarebbe mandare quest'uomo all'ospedale esce appunto di lì e di pagargli le cure piuttosto che avere delle grane preferisco e fu così che mezz'ora dopo pavi rientrava nella corsia da dove era uscito un'ora innanzi la superiore a rivederlo alzò le braccia dolente per lui perché lo aveva preso in simpatia ma sorridente anche perché rivederlo non le dispiaceva ebbene cosa vi ha riportato qui buon uomo mi sono rotto l'altra gamba sorella siete dunque salito di nuovo su un carro di paglia e pavì tartagliando tra imbarazzato e sornione no no questa volta no adesso la cuba non è mia non è mia è stato per via ad un pagliericcio e la superiore non pote cavarne altro e non venne mai a sapere che la causa della ricaduta erano stati i suoi 25 franchi grazie 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 grazie